Il Governo nazionale ha deciso di inserire nella legge di stabilità emendamenti che rappresentano, se approvati, una vittoria di tutti i movimenti civici che si sono impegnati contro la petrolizzazione dei mari che circondano la penisola. Verrebbe infatti reinserito il limite delle 12 miglia dalla costa per gli insediamenti non ancora definitivamente approvati, reintrodotto la competenza decisionale delle regioni e abolita la scelta strategica delle attività di ricerca energetica, anche se restano in piedi le richieste di trivelazioni oltre le 12 miglia marine. Per il coordinamento Trivele Zero solo la mobilitazione di chi il territorio vive può costringere le istituzioni ad assumersi le proprie responsabilità e ad agire nel nome dell'interesse collettivo. Senza la pressione delle migliaia di cittadini, Ombrina, a largo dell'Adriatico non sarebbe stata bloccata e forse i politici abruzzesi avrebbero preso decisioni più comode. Per il Molise si tratta adesso di seguire l'esempio dell'Abruzzo e costruire la mobilitazione. Fermare le trivelle si può. La volontà della gente può portare al coinvolgimento di tutte le categorie produttive e all'impegno delle amministrazioni per respingere la distruzione del sistema marino e turistico. È ancora più stringente ora la necessità che i molissani siano presenti alle iniziative del coordinamento e chiedano iniziative concrete alle loro amministrazioni. È indispensabile infine che il Governo regionale a Palazzo Vitale e i Comuni sottoscrivano e presentino le osservazioni contro il progetto Santa Croce e che in ogni Consiglio Municipale siano approvate delibere anti-trivelle. Grazie.